L'austerità che c'è in Europa, considerando l'impegna che abbiamo preso dalla Commissione europea per quanto riguarda il risultato, continueranno ad essere i mercati più grandi che avremo in Europa, sono presi a cui focalizzare, nel momento c'è stato uno sbilanciamento verso i segmenti più alti perché gli incentivi sono stati ridotti, eccetera, è un mercato più palizzato, il segmento A e B sono stati sbilanciati.